Falcao la controlla, ancora il Tigre, fuori da Germán, Berbatov con il tacco, va giù, è calcio di rigore per il Monaco, lo ha guadagnato Demetar Berbatov. Guadagnato dal Bulgaro, qui l'intervento di posto, la parte di Laminec. La concentrazione di Falcao, fischia l'arbitro, va Falcao nella notte di San Lorenzo, torna a brillare la stella più bella e più luminosa di tutte. Quasi è arrivato Lecomte, non ha potuto fare nulla però il portiere dell'Oriana.